sta per tornare manca poco allora da tempo non era così vicino all'azienda di famiglia logico immaginare che la sua agenda sia piena in linea teorica c'è ancora il tempo per un blitz ma aderi non era nei programmi ed ora è probabile che Zhang salti anche la traspetta di Champions ha fatto specie soprattutto lui che eh adora le passerelle mi ha fatto specie non vederlo soprattutto la presentazione di Pavar che dopo Ericsson diciamo è stato l'acquisto più importante degli ultimi anni quindi ragazzi l'ho detto anche ieri sera in live lo ribadisco la mia idea non cambia è sempre la stessa sapete benissimo secondo me chi sarà il nuovo proprietario e chi saranno i nuovi proprietari dell'Inter ora ci sono degli insider su Twitter a detta di qualcuno anche molto affidabili che anche loro ora si sono spostati versi i turbanti la mia idea è sempre quella non cambia l'ho detto ieri sera lo ridico oggi e non lo voglio dire più non parlo della proprietà perché non c'è più nulla da dire io voglio parlare dell'Inter voglio parlare del calcio non c'è più nulla da dire questo canale sulla proprietà soprattutto nell'ultimo anno sulla situazione finanziaria cose e poi sono state scritte su New York Times non sul vernacoliere di Livorno abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire non c'è nessuna novità a livello finanziario altrimenti i ragazzi mi avrebbero chiesto di fare una live non c'è più nulla da dire sulla proprietà bisogna solo ed esclusivamente aspettare il fatto che Zhang sia così lontano per tanto tempo cosa ci fa sperare cosa ci fa augurare che la sessione sia vicina punto questo ci deve far sperare che la sessione dell'Inter sia sempre più vicina ma ormai la forbice si sta sottigliando sempre di più perché giorno dopo giorno si avvicina sempre di più quel fatidico eh venti maggio quando scade il prestito e lui lo deve rimbozzare quindi la mia idea è sempre uguale non chiedetemelo più perché tanto se me lo richiedi tra un mese ti ridico io ho già dei video pronti da 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 ripassare video fatti otto nove dieci mesi fa ma non voglio parlare della fuffa capisci è inutile la mia idea è sempre quella te l'ho detto ieri saranno loro che entreranno nell'Inter ora sembra ci siano anche ti ripeto degli insider potenti su Twitter che stanno parlando di questa cosa non riprendo i tweet per farci le live sopra e così per me saranno i sauditi ad acquisire l'Inter punto e basta il fatto che non ne parli vuol dire che non c'è più nulla da dire e siccome eh ti ripeto fortunatamente io ho altri argomenti oltre questo discorso della proprietà che abbiamo affrontato nell'ultimo anno a livello non professionale di più con questi ragazzi io non ho più nulla da dire cioè sono sempre le stesse basta non voglio parlare più io della proprietà non ho più nulla da dire sto aspettando come voi ci siamo si avvicina allora Sanchez ha perso l'aereo parte Zang ripeto Zang a me il campanellino di allarme è venuto quando c'è c'è stato Pavard non è non è stato presente alla presentazione di Pavard quelli sono segnali importanti vuol dire che sta facendo qualcosa di molto molto importante Steven Zang io mi auguro e spero stia accelerando la cessione come tutti voi ovviamente chi è che non si augura un cambio di proprietà ora perché è arrivato Pavard e abbiamo venduto Brozovic e Onana andato via Skriniar e Dzeko solo perché è arrivato Pavard vogliamo andiamo tenere Zang anche il prossimo anno ma anche no poi lascia perdere lascia perdere che l'Inter per l'Italia ha una rosa di tutto rispetto quello è un altro discorso come lascia perdere che questo calendario strano guarda caso ci tocca proprio il derby dopo una partita di Champions comunque non voglio creare polemiche la partita contro il Milan è una partita secondo me molto ma molto importante perché potresti tarpare le ali a questi qua che comunque l'ho detto all'inizio anno il Milan è una squadra senza certezze e che ha cambiato tantissimo sono tutti i giovani che non hanno la maggior parte non hanno esperienza in serie a ma sono giocatori che hanno gamba che hanno personalità sono giocatori che vanno uno contro uno cioè hanno trovato a quanto pare io ti parlo delle prime tre partite hanno trovato dei buoni giocatori hanno trovato dei buoni giocatori cosa volevo dire mi sono segnato hanno un giocatore secondo me poteva far comodo anche a noi l'office tu ci ti fa abbassare molto la squadra ti fa schiacciare all'indietro e loro a livello tattico sono un libro aperto cioè tattivamente il Milan è quello lì tranne l'ultima partita dove li ho visti eh verticalizzare ma alla fine il Milan a livello tattico è quello che è Pioli è un allenatore spesso ma in confusione ricordatevi quando si mise a specchio con noi tre cinque due persi la partita una a zero quindi eh sulla carta non non c'è da aver paura di nulla di nessuno è anche vero che loro però ragazzi hanno trovato questo Pulisi che secondo me è il cacciatore più perioloso che hanno c'è ballottaggio De Vrai a Cerbi perché c'è ballottaggio De Vrai a Cerbi secondo me è vero lo stanno scrivendo un po' tutti perché a Cerbi si è sempre messo in tasca De Vrai mentre scusami Girù mentre De Vrai qualche volta Girù lo ha patito ecco perché c'è questo c'è questo ballottaggio tra Cerbi e De Vrai perché Girù è sempre entrato nel taschino di Cerbi però dove giocherei io giocherei sull'inesperienza comunque di tanti ragazzi al Milan per quanto riguarda la serie A ed è molto importante questa partita perché loro stanno incominciando a trovare delle certezze cose non avevano ad inizio anno l'Inter ha molte più certezze di loro il problema è che quando vinci giochi bene ti fanno complimenti prendi fiducia capito e dargli una bella legnata sarebbe veramente spezzargli le ali subito una partita fondamentale questa arriva troppo presto ma sai non c'è mai il tempo giusto per giocare una partita controvello controvellato quando arrivano devi giocare punto e basta fortunatamente possiamo ripresentare gli undici titolari della Fiorentina non ci sono stati infortuni Sanchez a pezzo l'aereo il sette il numero sette quello che era la Juve c'ha un'infiammazione c'ha la tendinite ma voglio dire non è una grandissima perdita Cerby è recuperato lo stesso sensi puoi giocare una ventina di minuti quindi cioè noi siamo messi bene ragazzi parliamoci chiaro Turam è in forma è già quasi in forma ha fatto gol di nazionale quindi cosa vogliamo ragionare ora non si scherza più ora non si scherza più perché questa partita è cioè per proprio per l'andamento cioè non è vero è la terza e c'è tempo no 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 non è vero questa partita secondo me vale molto di più di quello che parecchie persone pensano questa partita qui a livello psicologico conta tantissimo perché la una delle squadre che che ti può rompere le scatole per il primo posto è proprio il Milan cioè te soprattutto per i ragazzi giovani che hanno per la poca esperienza che hanno per la sicurezza che devono acquisire per un discorso di amalgama perché comunque il Milan è una squadra che si deve ancora trovare ha cambiato tantissimo se te gli dai una legnata nel derby è una roba fenomenale poi dopo sarà il campo a giudicare però io ti devo la verità forse forse guarda ti dirò una cosa strana forse questo Milan qui potrebbe essere un po' più pericoloso del Milan che abbiamo trovato in Champions League questo te lo voglio dire questo Milan qui secondo me potrebbe essere un po' più pericoloso di quello che abbiamo pa 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 schiaffeggiato davanti a tutto il mondo in semifinale di Champions League questo Milan qui per assurdo secondo me eh mi posso sbagliare poi vediamo il campo cosa dice è più pericoloso di per l'altro Milan però l'Inter è comunque una squadra forte ha una panchina quest'anno importante quindi eh io se fossi Pioli per esempio metterei Loftus Cic su Mkhitaryan speriamo non accada perché secondo me quello potrebbe essere un problema però ecco l'Inter io sono tranquillo perché ho visto l'Inter sul pezzo da subito la Faro Martinez killer sottoporta da subito Turam sul pezzo da subito semmai io in questa partita qui visto il centrocampo del Milan farei giocare frattesi poi se te mi dici Giusec ti toglieresti non lo so non lo so chi toglierei sono sincero io però farei giocare frattesi giocatore ordinato bravo in fase difensiva perché frattesi è bravo anche in fase difensiva stai attenti frattesi non corre a vuoto un centrocampista che corre tanto ma corre di qualità e io soprattutto in questa partita qui per il centrocampo che al Milan soprattutto per Reyners che comunque è lì per innescare Pulisic occhio bisogna non bisogna dargli modo di innescare Pulisic io farei giocare tutta la vita frattesi perché è un giocatore e ti garantisci la doppia fase in una maniera perfetta poi è in fiducia è in forma vedi ha fatto doppiette nazionale secondo me uno dei pochi uno degli errori di Inzaghi come quando vi ricordate quando Gosens giocò bene contro il Barcellona fece gol partita dopo in panchina Inzaghi non sfrutta mai la scia positiva dei giocatori mentre secondo me bisognerebbe sfruttarla problema poi che c'è da mettere in panchina uno e da spiegargli guarda ciccio te domani stai in panchina e lì sono tutti grandi giocatori con delle personalità particolari non è facile di chi stai a sedere però secondo me frattesi per come gioca il Milan per il centrocampo del Milan andrebbe fatto giocare titolare e 90 su 100 partirà dalla panchina quindi vediamo un attimino anche Inzaghi c'è una bella grana perché comunque ora ha tanta scelta nazionali sono tutti rientrati tranne Sanchez che ha perso l'aereo vabbè ma si sa che Sanchez quando va in nazionale sai che va via ma non sai se ritorna e come ritorna quello lo sappiamo ora addirittura prima andava via e stava bene ora va via anche quando c'ha problemi quindi quello ragazzi dipende da me dipende dall'Inter ci becchiamo più tardi ciao